Prima di venire in live, avevo letto che dovrebbe uscire una SBC di Mertens. Pazza, avevo capito di me... vabbè. No, no, di Mertens. Ho detto manca a far così, va bene che fino a mo' sono uscita SBC discutibile, però datte una regolata. LG ha lanciato una collaborazione con Exceed per lanciare appunto i nuovi monitor OLED, in particolare il monitor LG C1, perfetto per la next generation. Ribera se ci vuoi dare qualche... Assolutamente sì raga, l'unico praticamente televisore da gaming che potete trovare in commercio nell'ambito della fantastica linea LG OLED, appunto abbiamo questo C1, che è l'ideale per giocare con tutte quante le console next gen, quindi parliamo di PS5, di Xbox One, eccetera, eccetera, serie X, visto che addirittura è in grado di arrivare a un refresh rate di 120 Hz, un tempo di risposta di un millisecondo, risoluzione fino a 4K, quindi veramente il compromesso ideale per avere una televisore che ti fa godere appunto il lusso di una televisore, ma assolutamente con tutti i vantaggi ideali per il gaming, quindi veramente il non plus ultra sotto ogni punto di vista. Io ci tengo a sottolineare il discorso di un millisecondo di delay, perché in questi anni in live ci fanno sempre la stessa domanda, ma dobbiamo per forza giocare sui monitor, io vorrei giocare sulla TV, e in passato noi rispondevamo sempre, sì vi conviene perché le TV non riescono a garantire quella, diciamo, performance in termini di millisecondi di delay dei monitor, ora invece con questa TV si riesce ad avere la grandezza di una TV, ma allo stesso tempo i dettagli, la risoluzione, eppure i tempi di risposta di un monitor da gaming, quindi che desiderare di più? È abbastanza. Però noi oltre a essere riuniti qua per questa collaborazione tra Exceed e LG, abbiamo visto che nelle ultime settimane, dal punto di vista di FIFA, e soprattutto del competitive, è stato un periodo molto bollente, no? Perché sono iniziate le prime competizioni ufficiali, e non solo, perché ormai a partire dall'anno scorso abbiamo visto sempre più tornei, anche paralleli, no? Quindi non proprio ufficiali, che in qualche modo sono diventati anche l'anima del competitive, i vari, le varie blackie, la no tilt cup, quest'anno con l'eligella che addirittura ha siglato una partner con EA, quindi insomma tutta una serie di tornei che stanno pian piano assumendo sempre più rilevo di importanza nella scena, e ovviamente tutti i nostri piccoli eroi si sono cimentati, anche noi maestri ormai dall'alto della nostra vecchiaia, in particolare per quanto riguarda il mondiale per club, e sono arrivati anche degli ottimi risultati, no? Prima di lanciarci su quella che è secondo me magari un recap di quelli che sono stati i vari tornei, soprattutto anche con il 2v2, che per la prima volta quest'anno abbiamo visto, farei un po' una panoramica su come è il funzionamento generale di questa stagione, perché abbiamo visto che ancora una volta il covid, diciamo, è un fattore determinante, per questo motivo nuovamente EA ha deciso di basare un po' il tutto sull'online, e di conseguenza sono state fatte quattro stagioni delle Division Rivals, al termine di ognuna di queste i migliori 256 giocatori della classifica, nel nostro caso dell'Europa dell'Est, accedono poi a quelli che sono i quattro qualifier, quattro qualifier che mettono in palio non solo un premio in denaro, ma più importanti sono quelli appunto i Global Series Pro Points, che ti danno la possibilità poi a fine anno di poter accedere ai playoff, e perché no anche al mondiale, questo per quanto riguarda il circuito primario dell'1v1. Poi abbiamo visto che è stato introdotto anche il 2v2, con la qualifica di questa settimana di Milano, che doveva dare l'accesso al torneo di gennaio della Toti Cup, che però è stata cancellata per il covid, e quindi in realtà poi il team che andrà a vincere domenica, che ci saranno le finali, porterà a casa 15.000 dollari, e il pass per la finale della Tots Cup, che ci sarà più o meno verso maggio-giugno, hanno detto. E proprio per quanto riguarda invece le qualifiche 1v1, nella nostra regione gli italiani hanno fatto veramente il panico. Se guardiamo in casa nostra, abbiamo Franco, Dunjolf, Checco e Richard, quindi quattro giocatori che si sono presentati ai nastri di partenza. Abbiamo avuto un risultato eccezionale, addirittura con la top 5 di Franco, che veramente si è dovuto arrendere solamente a Margamat, e veramente ha dovuto cedere il passo a uno che era più in forma di lui in quel torneo, che infatti ha chiuso secondo. Vediamo come lui arrivi sempre alla fine di queste competizioni, e poi gli manca proprio quel guizio per portare a casa il torneo, ma ci siamo, ci siamo. Passerei a parlare della Champions. Scoro una volta qui a giocare, c'erano Franco, Dani, Richard e Checco, hanno fatto tutti quanti un'ottima performance, in particolare Franco, che insomma poi andremo ad approfondire, e Checco, che è arrivato anche lui al day 2. E in particolar modo, Franco poi è arrivato a giocarsi non una, ma ben due volte il match decisivo per potersi qualificare. E lui veramente era stato dominante, cioè aveva vinto tutti i turni della Swiss, quindi aveva fatto 7-0. Poi è andato a fare il bracket, e nel bracket ha vinto i primi due turni praticamente in pantofole. Dopodiché, al match decisivo, la prima volta si è beccato un player danese molto forte, che tra l'altro due anni fa ha tolto anche a me la qualifica, quindi è stato veramente una vendetta che non si è consumata per pochissimo. E poi, al match decisivo, di nuovo, in loser bracket si è beccato Renzo, che è un player italiano col quale lui ha giocato 1800 volte, battendolo 1799, è arrivato a farsi questa partita che forse sentiva un po' il peso della pressione, eccetera, eccetera, e purtroppo si è messa male. C'è quella componente di mental skills che forse viene un po' meno. Ma non è che viene un po' meno, lui è molto giovane, noi lo vediamo vecchio perché ha quell'area un po' da anziano, ma è molto giovane, quindi io sono convinto che tra quest'anno e l'anno prossimo maturerà definitivamente come player e farà anche questo passaggio di livello nella fase finale dei torni. E poi, dopo la Champions League, appunto c'è stato l'appuntamento del 2v2, che si è concluso oggi, ma ci saranno poi le finali domenica che decreteranno appunto il vincitore dell'Open di Milano, dove insieme a Dunjolf si sono portati a casa una bellissima top 12, e questo pure è un altro aspetto del competitive, che onestamente io trovo molto, 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 molto più divertente dell'1v1 quest'anno, perché è veramente qualcosa di coinvolgente, anche solo vedere e osservare la dinamica che c'è tra i due compagni di squadra. Soprattutto grande composure per Franco, vedi, quell'essere, diciamo, così pacato, così, quel trasmettere calma è una cosa molto, molto importante, soprattutto nel 2 contro 2, perché è facile, è facile perdere la calma, non solo per quella che è la partita, ma pure per magari degli atteggiamenti del proprio compagno di squadra, no? Ci ho dato uno sguardo e mi sono triggerato pesantemente a vedere l'ultimo best of truth che hanno fatto, perché i due avversari molto bravi, per carità li conosciamo, però è stato veramente un furto quella partita lì, hanno fatto due gol sul solito bug su corner, grazie, grazie Libera per fare questi tutorial, e per il resto sono arrivati 20 volte davanti alla porta, in un modo e in un altro gli avversari si sono salvati, ma tolti quei due corner non hanno fatto assolutamente niente, e poi da un lato c'era un portiere che parava tutto, Alisson dall'altro lato, Van der Saro non ha parato niente, quindi è stato brutto vederli uscire così, perché anche in questa circostanza avevano disputato un torneo quasi impeccabile, però vabbè, questo è il gioco, fa parte anche la casualità e a volte i risultati non proprio veritieri fanno parte di questo mondo. Chiuderei questo discorso sul competitive, quest'anno si è sviluppato anche tutto un circuito parallelo ancora di più, con le varie cup organizzate dai vari influencer, content creator, eccetera, tra queste c'è anche la No Tilt Cup, che Franco qualche settimana fa si è portata a casa, quindi sta veramente avendo, come abbiamo detto, un avvio di stagione clamoroso, tra l'altro questi tornei spesso e volentieri piazzano un prize pool più alto di quelli che sono i tornei ufficiali, perché insomma un problema di FIFA degli ultimi anni è stato quello del monte premi, delle varie competizioni di cui quasi sempre ci si lamenta, insomma non all'altezza di quello che è il nome del gioco, no Oli? Ok che chi si affaccia a questo mondo, fondamentalmente, parliamoci chiaro, non è che lo fa per soldi, lo si fa più che altro per la gloria, per quella voglia di emergere, di farsi conoscere, però comunque considerando quelle che sono le entrate della EA rapportate al numero dei tornei e soprattutto al... il monte premi messo in palio ognuno di questi tornei fa veramente ridere, cioè non è che stiamo paragonando a Fortnite, cioè proprio sono dei monte premi ridicoli rispetto a quello che è tutto il resto, quindi magari è una mia impressione, ma quest'anno comunque al di là di premi, ok sappiamo com'era EA, ma sbaglio o lo sta un attimo trascurando l'EA il competitive proprio in termini di dargli visibilità? Perché... Guarda, non gliene freghi proprio, cioè... Esatto! Gli altri giochi, ok? Mò prendo sempre ad esempio Valorant, perché è quello che insomma è un po' più sulla bocca di tutti ultimamente, stanno facendo il mondiale, ma lo stanno facendo dal vivo, così come hanno fatto i vari split, li hanno fatti tutti quanti dal vivo, EA invece pare che abbia trovato il parafulmine perfetto con questa scusa del Covid per metterselo davanti e dire no ma c'è il Covid, vabbè facciamo tutto online quest'anno e arrivederci tanti saliti, va bene, abbiano la scusa finale. Grazie a tutti!